San Pietro, nella Basilica di San Giovanni Laterano, San Paolo, l'Organo, gli Affreschi, l'abside con la cruce al centro, l'altare del transetto con le reliquie dell'ultima cena e l'altare caotico. Di San Giovanni Laterano. La cattedra del Vescovo di Roma. Per questo si dice cattedrale e San Giovanni Laterano è la cattedrale di Roma. Grazie. 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 Grazie.